La crisi economica nella provincia terramana è testimoniata anche dal gran numero di assegni a vuoto emessi nel 2008. Sono raddoppiati arrivando a 4.000. La prefettura ha seguito il fenomeno constatando che le sanzioni per violazione alle norme sulle emissioni di assegni hanno subito un balzo rispetto al 2007. Sono stati 1.681 i provvedimenti sanzionatori adottati per un totale di 4.117 assegni. Insomma, sono stati versati all'erario quasi 3 milioni di euro con una media di 1.700 euro a sanzione. La gran parte degli assegni scoperti sono emessi dalle piccole imprese. Gli imprenditori pagano con assegni post-datati ma poi non si riesce a coprire la somma. Il rischio mette in guardia la prefettura il ricorso all'usura nell'errata convinzione di risolvere i propri problemi. Occorre evitare, afferma il prefetto Francesco Camerino, che l'attuale diffusa condizione di disagio alimenti il malaffare.